La Pasqua è appena passata, ma il paragone evangelico calza comunque a pennello. Quella per portare il tram a Marghera è una vera e propria via Crucis. Il siluro rosso, che da anni continua a tenere impegnati i tecnici e operai, ha un nuovo problema. La testa del convoglio finirebbe puntualmente per grattare il fondo stradale nel sottopasso della stazione di Via Piave, sintomo evidente che la rampa realizzata per collegare Marghera a Mestre non ha la giusta pendenza. Il vice sindaco Sandro Simionato non nasconde l'irritazione. Certo che rimane un grosso punto interrogativo come mai avvengano situazioni di questo tipo. Bisognerebbe avere probabilmente anche più attenzione e cura nella svolgimento dei lavori. Il presidente di PMV Antonio Stifanelli ha precisato che si tratta di una questione di millimetri. Lunedì l'asfalto sarà livellato per permettere al tram di passare senza problemi. L'opera è un'opera grande, è un'opera complessa, che ricordo è un'opera che nasce con le caratteristiche della sperimentazione, insomma per questo sono stati ricevuti i finanziamenti e quindi qualche difficoltà anche tecnica ci può essere. Credo che le situazioni siano quelle di normali cantieri, bisognerebbe chiaramente evitare che ci fossero, ma purtroppo a volte succedono. Grazie a tutti.